Siamo all'interno del parco della colonia Bambiniera di Ghieri, nel tratto nella zona di via Vigolo, dove abbiamo inserito un nuovo parco giochi, grazie a un progetto partecipativo del 2019, molto particolare. È un parco giochi con caratteristiche fisiche per i bambini. Tutti i giochi sono in legno e sono stati inseriti con un richiamo alla palestra di roccia che è qui vicino. Erano stati direttamente i residenti a chiedere all'amministrazione comunale questo parco giochi speciale nel quartiere Gogna nel 2019. Un progetto partecipativo che chiedeva di attrezzare questo spazio che ospita anche la sede degli scout, ragazzini appassionati della vita all'aria aperta. Un nuovo intervento che rientra nel piano più ampio di ripristino e manutenzione periodica delle 58 aree gioco attrezzate cittadine, dove sono presenti complessivamente 415 strutture. Sì, stiamo facendo una programmazione di interventi con la riqualificazione importante delle aree gioco, soprattutto parchi e giardini scolastici, un intervento importante che sarà poi completato grazie ai 950 mila euro del Fondo di Generazione Urbana che ci permetterà di completare moltissimi parchi della città. Abbiamo già messo investimenti con risorse proprie del comune, questi sono i risultati. Inseriti nel progetto in via Vigolo anche due tavoli da picnic utilizzabili da persone con disabilità. Il nuovo impianto, realizzato con 50 mila euro, è stato progettato accogliendo le specifiche richieste dai cittadini che volevano favorire l'attività motoria mirata all'arrampicata vista la presenza della vicina falese del CAI utilizzata da anni come palestra di roccia. Il materiale scelto per realizzare i giochi è stato un legno specifico che richiede scarsa manutenzione. È una scelta che è in linea con le scelte fatte dall'amministrazione, quindi andare a fare parchi e giochi che siano più fisici e insieme al gioco metteranno il movimento per i bambini. Quindi altretticità e sforzo fisico fondamentalmente, quindi andare a giocare ma facendo attività motoria. Poi questo c'è un richiamo classico a tutto quello che è l'arrampicata, quindi un piccolo segnale anche di avvicinamento propedeutico allo sport della scalata.